Buongiorno, sono Sheldra Mariana. Oggi siamo qua per una nuova vicenda di lingua di gas. Prendiamo nel burro un letto, aggiungiamo del piccolo vero, sempre un letto, e montiamo. Abbiamo 10 grammi di latte, 50 grammi di latte, possiamo anche unirlo insieme e diamo piano piano l'algumento. Alla prossima. Poi aggiungiamo 130 grammi di farina e 20 grammi di pecula. Prendiamo il piccolaio. La nostra pasta è pronta. La nostra pasta è pronta. Prendiamo un sacchetto. La nostra pasta è pronta. 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 Prendiamo la teglia. Prendiamo leggermente il burro. Nel frattempo abbiamo preparato il burro a 210 gradi. Prendiamo leggermente il burro a 21 grammi di pari. Prendiamo il burro a 20 grammi di grigio. Prendiamo il burro a 20 grammi di grigio. Grazie a tutti. Ok, andiamo a cuocere. Le nostre lingue di lukat sono cotte a 210 gradi per 10 minuti.